Una donna anziana va dal ginecologo, lei aveva 90 anni Ma non è fedosa chissà? No, è pulita chissà, chi sta pulita? Allora dici prima, come voglio do l'ultima conciollata? Certo! Allora si spogli signore! Eh! Se mettono un dolentino su, nuda, eh certo, come allora? A conciollario? Eh certo! Anche ho tutt'ora come se c'ha fatta così! Vì! Si scandale! Mi fa scandale! Che c'è? Qualche cosa? Dici, in effetti una cosa c'è Dici, io non capisco, lei aveva 90 anni Io capite anche E da sotto una pelluria così miura Ma dici, dottor, lei vuole mettere i pensieri che piacere? Ah 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 ah